Il mondo dell'energia sta diventando sempre più complesso. Piccoli produttori prendono il posto delle grandi centrali di produzione, mentre i consumatori si aggregano in comunità energetiche per fare sinergia. La diffusione di fonti di generazione rinnovabile è indispensabile per contrastare il cambiamento climatico, ma pone nuove sfide nella gestione efficiente della rete elettrica. Grazie alle tecnologie oggi disponibili è possibile analizzare ed elaborare grandi quantità di dati, ad una velocità senza precedenti. In Evoji si incontrano il mix di competenze e di esperienza necessaria per rendere possibile la transizione energetica e digitale. Fondata da alcuni soci con un lungo track record di esperienze nell'ambito dell'energia e della tecnologia, il vero valore di Evoji sta tutto nel suo giovane team di talenti. Un team che vede coinvolto Energy Manager, Data Scientist e architetti del software in una combinazione di competenze tra loro diverse e complementari. Da qui la creazione di una piattaforma di Energy Management System che offre una serie di servizi fondamentali per accompagnare i nostri partners verso la transizione energetica. La missione di Evoji è di introdurre un nuovo paradigma nel mondo dell'energia, generando un impatto positivo sulla società e l'ambiente. Dati, tecnologia e algoritmi di intelligenza artificiale vengono utilizzati per condurre in maniera intelligente gli assets energetici, semplificando la gestione di edifici e impianti e riducendo le emissioni di CO2. Simon è la suite di prodotti per coprire a 360 gradi la gestione in multisitio degli asset energetici. Le tecnologie IoT e Machine Learning permettono di monitorare i parametri energetici ed ambientali, intervenire da remoto sui propri impianti e gestire dinamicamente e predittivamente le risorse. Gli algoritmi di intelligenza artificiale imparano dai dati, ad individuare la gestione ottimale del proprio sito, per mezzo di diversi parametri, come le condizioni meteorologiche e i prezzi dei mercati energetici. Unire competenze, passione e valori è la chiave per raggiungere grandi risultati. In Evogy crediamo che la trasformazione digitale sia fondamentale per costruire un'economia più rispettosa del nostro pianeta. Benvenuti nel futuro dell'energia!